Comincia dall'inizio, perché tu sei stata adottata? Cioè parli anche della tua famiglia d'origine, perché a sei anni ricordi benissimo. Avevo dei ricordi, sì, assolutamente, avevo dei ricordi dovuti anche al fatto che sono passata da una realtà a un'altra realtà completamente diversa, quindi è stato un cambiamento profondo nel mio modo di vivere, di culturale, di lingua, di cibo, tantissimi aspetti sono cambiati profondamente nella mia vita, quindi quando sono arrivata in Italia ho visto la differenza, ho vissuto la differenza e questo mi ha permesso probabilmente di ricordare molto bene a sprazzi alcuni aspetti della mia vita in Sri Lanka. Allora, i tuoi genitori, ho letto nella tua storia che per problemi di indigenza, quindi di non possibilità economiche, ti hanno affidato, diciamo così, a un orfanotrofio. Sì, andare e venire più che altro per necessità di famiglia, per l'alimentazione, per... Lì la Kumari piccola racconta ancora, ricorda che cosa provava quando uno dei suoi compagni, delle sue compagne veniva adottato, no? Sì, è un sentimento che ho riscoperto in realtà poi tornando nel mio paese a lavorare. Ho lavorato in un orfanotrofio e ho visto proprio queste situazioni e quello probabilmente ha spolverato nella mia memoria queste emozioni, questi sentimenti di frustrazione anche per i bimbi, perché si vede... sono tutti bambini che si vedono e si fanno amicizia, solidarizzano tra di loro, si sentono soli e quindi diventano compagni di vita. Poi quando arrivano delle coppie che prendono qualcuno di loro... Qualcun altro ci rimane male, è inevitabile. Sì, ci si vede andare via un amico comunque, non è solo un... E tu ricordi il momento esatto quando sono arrivati i tuoi genitori? Io li ho incontrati i miei genitori nella famiglia, in una casa, quella casa che si vedeva prima nella fotografia. Sì, li ho incontrati lì e me lo ricordo perfettamente perché sono entrata dalla porta di servizio la prima volta che li ho visti perché non ero ancora della famiglia Bosini. Come te li eri immaginati? Non me li ero immaginati, non mi avevano detto come sarebbero stati, mi hanno detto che arrivavano dei genitori e questo per me era sufficiente, assolutamente. E appena li hai visti cosa è successo? Appena li ho visti sono corsa in braccio alla mia mamma, quella che sarebbe diventata poi la mia mamma, ed è stata una cosa proprio naturale. L'ho vista e sono stata contenta che fosse lì per me e questo è stato il miglior regalo. Il fatto che fossero di un'altra etnia non mi aveva colpito per niente, più per mio papà magari che aveva i baffi, era un colore di capelli che non avevo mai visto, quindi quello. Quindi un po' di diffidenza. Un altro momento toccante è quello del tuo arrivo a Torino, cioè nella casa di Torino e mi ha colpito, ma davvero hai... Cioè ti sei mossa da sola, sapevi dove andare nella stanza della tua cameretta? Mi hanno portato delle fotografie i miei genitori, quando erano in Sri Lanka mi hanno portato le fotografie di quella che sarebbe stata la nostra casa e la mia cameretta. Quando sono arrivata la prima cosa che ho fatto è andata, sono andata a cercare la mia cameretta, ho visto che c'era il letto e quella è stata una gioia immensa proprio. perché non avevo il letto quando vivevo in Sri Lanka, avevamo delle stuoie, avevamo una stanza comune in poche parole. E quindi quando sono arrivata... E quando sei andata a scuola il tuo primo giorno di scuola in Italia che cosa hai chiesto? Ho cominciato a chiedere a tutti quanti se avevano il letto perché volevo capire se era una cosa. La storia di Kumari ha anche tanti altri capitoli, non so se riusciamo tutti oggi a raccontarle, ma ci proviamo a raccontarle almeno la maggior parte. Tua sorella, c'è anche tua sorella, perché i genitori di Kumari affidano all'orfanotrofio non solo Kumari, ma anche un'altra figlia che è di due anni più grande di te. Due anni più grande, sì. E che per pochissimo non siete stati adottati dalla stessa famiglia, è vero? Eh, quello è stato il destino più che il... Non lo so se avremmo potuto essere adottate dalla stessa famiglia, so che siamo state fortunatissime perché siamo state adottate nello stesso periodo e la famiglia che ha adottato lei era nella stessa casa dove stavano i miei genitori. Loro solo quando ci hanno incontrato insieme hanno scoperto che eravamo sorelle. Quindi a quel punto avevamo entrambe una famiglia e questo è stato... Loro, la nostra fortuna è che hanno voluto mantenere i contatti tra di loro. Anche se noi per un certo periodo non ci siamo sentite, loro continuavano a sentirsi, a telefonarsi e poi nel momento in cui noi abbiamo deciso di riprendere i contatti, loro sono stati felicissimi. Infatti adesso siamo una famiglia allargata. Però che genitori che ti sono capitati, eh? Eh sì. No, sono stata molto fortunata. Hai ripreso i contatti con tua sorella e tra l'altro da poco mi pare che tua sorella... Si è sposata a luglio, quindi allarghiamo ancora di più la famiglia adesso. Siamo proprio... È una di quelle famiglie allargate che non dipendono tanto dai genitori, che si separano, magari si creano altre famiglie, ma dalle figlie. A noi piace pensare questo, che siamo... Allora, racconteremo più avanti altre cose. L'ultima domanda banale, perdonami, ma il ruolo me lo impone. Visto che avevi sei anni quando sei stata adottata, ti senti più italiana o più srilanchese? Eh beh, sono stata per sei anni srilanchese, per ventun'anni italiana, quindi ormai direi che proprio sono italiana. Però sono anni che mi sento italiana. Nel momento in cui ho acquisito il mio cognome, ho capito che i miei genitori non mi avrebbero abbandonata, sono diventata italiana. È stato l'amore. Allora, come vedete, è una bellissima storia, è una bellissima storia, finita bene, dice Kumari, perché poi ci sono altri capitoli che insomma non sono così rosi, ma li raccontiamo dopo.